Picciotti e gattini ingiano la casa. Ecco a voi l'ovo fritto. Com'è com'è? Panunzio di casa. E la mamma? E la mamma? Panunzio di casa e la mamma ti va? Ho visto una mammogliata così. Una ruetcea alle 123 e lo metto a me. Buona cena! Internazionale ragazzi, squadra a mucca! Ciao!